Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come eliminare così il file page file.sys più l'altro amico file swap file.sys questi file possono pure raggiungere fino a 20 giga quindi file di sistema se non riesci a vederli sul tuo disco locale c quindi questo pc, disco locale c, scendi fino a giù fino a trovare così questi file se non riesci a vederli quindi in questo caso andiamo direttamente su opzioni esplora file vai su visualizzazione, scendi fino a giù, visualizza cartelle file e unità nascosti scendi fino a giù fino a trovare, nascondi i file protetti di sistema, togli la spunta da qua e fai ok una volta fatto andiamo direttamente su visualizza impostazioni di sistema quindi visualizza impostazioni di sistema avanzate, vai su impostazioni, vai su avanzate, vai su cambia qui togli la spunta da qui, nessun file, metti questo qua, imposta, fai sì e fai ok per rendere effettive le modifiche apportate è necessario avviare il computer bisogna riavviare il computer per eliminare quei file, fai applica, fai ok, chiudiamo un attimo qua riavvia ora, riavvia in seguito quindi una volta fatto andiamo direttamente su cmd, prompt dei comandi, esegui come amministratore e fai sì una volta fatto in descrizione ti ho lasciato il comando da inserire questo qua, fai copia e fai incolla e fai invito una volta fatto andiamo così a scrivere exit usciamo da qua, ora ritorniamo così sui nostri file ed eccoli qua per cancellare questi due file di sistema bisogna riavviare il computer e poi procedere a eliminarli può eliminarli automaticamente una volta riavviati, se non li ha eliminati puoi cancellarli tu stesso quindi se adesso vado a fare elimina non me li fa cancellare riprova, perché il file è aperto è un altro programma, stessa cosa anche con questo quindi riavviate il computer e potete cancellare questi due file se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao